Per i 25 anni della città delle bambine e dei bambini Fano riceverà per la prima volta la terza carica dello Stato in ordine di importanza. La presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini è attesa per le ore 16 al Teatro della Fortuna dove parteciperà al convegno da Fano all'Europa le città dei bambini. Al suo fianco oltre alla parlamentare di SEL Lara Ricciatti al tavolo dei relatori il docente universitario Fabio Bordignon. All'iniziativa sul 25 annale del laboratorio dei bambini anche il responsabile del progetto fanese, il ricercatore del CNR Francesco Tonucci. È una presenza che vuole essere anche un riconoscimento importante, viene in occasione del 25esimo anno della nascita del laboratorio Fano città dei bambini che è stato un punto di forza dove Fano è stato punto di riferimento ed era anche uno dei miei cavalli di battaglia dove nel mio programma ho sostenuto che volevo riportare Fano protagonista su questa tematica in termini di attività, in termini di scelta anche amministrative per la città ma anche elemento che potesse dare lustro alla città. Stiamo recuperando terreno, adesso a breve presenteremo anche un nuovo progetto dove Fano sarà capofila per la regione Marche proprio su queste tematiche. È un'iniziativa che sarà aperta alla cittadinanza, ci saranno anche contributi di bambini, di quello che è stato il patrimonio della Fano città dei bambini, e poi si parlerà anche di Europa perché attraverso, se vogliamo credere in un'Europa più vera dove ci sia veramente un senso di cittadinanza europea non si può che non partire da questo patrimonio che sono i nostri giovani. Come di norma si è messo in moto tutto l'apparato del protocollo di sicurezza previsto dallo staff di Montecitorio in questi casi e che era già andato in scena per la visita di Alfano. Piazza 20 Settembre blindata e spiegamento di forze in divisa e in borghese fin dalla mattina. Per accogliere la Boldrini le bassime cariche politiche, militari e religiose. Al termine del convegno l'intensa giornata si concluderà con una cena al ristorante self-service Pesce Azzurro.